Vittoria interna nella quattro e diciassettesima giornata del Campion del Under 14, il girone B per la Vigor Perconti, allo Sporting Center termina 2-1 il confronto nel Procalcio d'Orsa Pienza, 1-2 decisiva di inizio di presa con Sperguti e Federici nel finale, gol ospite di Mancini. Vigor Perconti che scende in campo con Corriere, Conte, Autiero, Federici, Spaccarotella di Francesco, Falciatori, Micozzi, Canis, Sperguti e Giulietti risponde il Procalcio d'Orsa Pienza con Cicerelli in porta, Ortu, Bizzocchi, Sartacci, Mariotti, Cuovo, Zanobi, Iacobucci, Provietti, Mancini e Luzzito. Prima occasione di marca ospite che gioca una buona, prima frazione di gioco con Mancini di testa, palla che termina in out al terzo minuto, poi ancora Procalcio d'Orsa Pienza pericoloso, ancora con il suo numero 9, conclusione da buona posizione che termina in alto, sopra la traversa, Vigor che inizia a farsi vedere al dodicesimo minuto, colpo di testa da parte di Federici che termina alto, sopra la traversa, poi poco più tardi, conclusione al diciannovesimo che termina tra le braccia di Cicerelli. Procalcio d'Orsa Pienza vicino al gol, nel finale della prima frazione di gioco Mancini, prova in spaccata, palla che termina in out, Vigor che passa in vantaggio ad inizio di presa al quarto minuto, conclusione da parte di Sperduti, palla in fondo al sacco e 1 a 0 in vantaggio, Vedi Blaugrana. Il raddoppio che arriva, qualche giro di lancette dopo quando all'undicesimo minuto è la spaccata da parte di Federici che trova il raddoppio di padroni di casa. Procalcio d'Orsa Pienza che si riversa in avanti per tentare il tutto per tutto dal corner, Iago Lucida con due passi a trovare pronto il portiere dei padroni di casa, ultimo brilio del match ed è il 2 a 1 che si materializza nel finale con Mancini, bravo di destra, a trovare l'angolo opposto. Rete per il Procalcio d'Orsa Pienza e match che in sostanza termina qui, Vigor 2, Procalcio d'Orsa Pienza 1. Grazie a tutti.